questo programma è offerto da centro sportivo football 24 un'oasi sportiva immersa nella città le previsioni del tempo per la provincia di messina oggi 12 gennaio cielo parzialmente nuvoloso con temperature che oscilleranno da 13 a 16 i venti soffieranno con intensità media da sud i mari mosso lo ionio poco mosso il tirreno domani lunedì 13 gennaio cielo nuvoloso con possibilità di rovesce i venti soffieranno con intensità media da sud est i mari mosso lo ionio poco mosso il tirreno i mari mosso lo ionio i mari mosso il tirreno i mari mosso il tirreno